Anche a Mondolfo, San Costanzo e nei comuni di Cartoceto e Monbaroccio è tutto pronto per la partenza dello screening di massa Covid-19, fissata come perfanno l'8 gennaio. Per quanto riguarda i comuni di Mondolfo e San Costanzo, il sito individuato per effettuare i tamponi antigenici rapidi è il bocciodromo comunale, in particolare Sala Ciriachi in Viale Europa 9 a Marotta. I test saranno effettuati tutti i giorni a partire da venerdì, negli stessi orari stabiliti per Fano, ad eccezione del 13 gennaio, ultimo giorno di screening in cui i tamponi saranno effettuati solamente di mattina dalle 8 alle 13. La macchina organizzativa è il lavoro, ringrazio la Regione Marche e l'Asur per l'organizzazione di questa importante iniziativa, ringraziamo i volontari della protezione civile della Croce Rossa che saranno presenti in quei giorni. L'invito che faccio come sindaco a tutti i cittadini dei comuni coinvolti è quello di partecipare, è un'iniziativa molto importante, la partecipazione è fondamentale per renderla efficiente. Tutti i cittadini di tutti i 5 comuni coinvolti possono recarsi in una delle 4 location che sono state indicate e assieme all'amministrazione comunale di Monbaroccio abbiamo fortemente richiesto all'Asur la possibilità di istituire questa location presso il ristorante La Tagliata, a metà strada diciamo tra i due borghi storici di Cartoceto e di Monbaroccio, proprio per dare la possibilità anche alle fasce più deboli della popolazione, specificamente quelle anziane, di sottoporsi al test. Sarà attiva ed aperta soltanto nelle giornate dell'11 e del 12 gennaio. La regione vuole essere presente su tutto il territorio, ha poi puntualizzato l'assessore Francesco Baldelli, senza nessuna contrapposizione tra nord e sud, tra costra e dentro terra o tra piccoli e grandi comuni. Questo screening di Masta dà la dimostrazione che noi vogliamo considerare tutto il territorio senza fare distinzioni tra comuni di prima fascia o comuni di seconda fascia, perché è il modo migliore per tutelare il diritto alla salute dei cittadini marchigiani.